Ciao, penso che questo Vangelo tocca un grande problema della nostra vita. Quando dobbiamo avere per poter andare durante la nostra vita? E di quando dobbiamo fidarci di altri? Perché se ho troppe cose e sono troppo dipendente, non apro il mio cuore agli altri, non mi fido, non mi sento qualcuno che c'è spazio, che Dio anche mi protegge, che mi fa vedere che altri mi aiutino. Questo è molto importante, durante questo viaggio qui sento spesso queste cose. Per una parte può essere che si prende acqua, ma non si a volte prende sufficiente, perché è difficile forse prevedere quando ci prendono passare le montagne, quando il tempo ci vuole per questo. E poi, che bello essere stupiti dall'ospitalità delle persone che dividono acqua, che danno di acqua, qualcuno può dire, ma non si è stata ben preparata, non si è stata mai tutto prevista. E penso che non solo durante questo viaggio, ma durante il viaggio della nostra vita, dobbiamo fare questa scelta. se vogliamo in tutto, tutto avere sotto controllo, anche essere stupiti della bontà degli altri. Grazie.